Il decimo forum Quale Energia? Siamo in compagnia di Roberto Valdinoci, direttore generale del gruppo Saviola. Roberto Valdinoci, lei si occupa di legno post-consumo, ossia il legno che arriva dal riciclo, che però anziché venire utilizzato quasi come un rifiuto, acquista valore. Questo è il processo dell'upcycling. Cosa ci fate voi con il legno post-consumo che deriva dalla raccolta differenziata? Con il legno post-consumo che proviene dalla raccolta differenziata produciamo pannelli ecologici, ed ecologici perché usiamo solo legno post-consumo al 100%, e questi pannelli vengono poi nobilitati e trasformati in materiali molto eleganti per la produzione di mobili e arredi. Il termine che lei ha usato, upcycling, è corretto. Noi abbiamo parlato di riciclo del legno sino a qualche tempo fa, quando mettavamo in evidenza l'aspetto di sottrarre un rifiuto da una discarica per valorizzarlo. Oggi parliamo di upcycling perché non solo consentiamo l'utilizzo di questo rifiuto, facendolo diventare una risorsa, quindi nell'ambito di un'economia circolare, ma ciò che ne ricaviamo ha delle caratteristiche tali per consentirci di esportare un valore aggiunto a quello che noi produciamo come complementi per mobili e arredi particolarmente eleganti che ci consentono di esportare il Made in Italy in tutto il mondo. Bene, dal Forum Quale Energia, Sergio Ferraris, ringraziamo il dottor Valdinoci. Grazie.